C'è un'interpretazione fra le molte nelle quali ti sei incimentato che ricordi di più? Allora, tu già lo sai, è United States of Tara, ovvero gli Stati Uniti di Tara, che appunto parla di questa signora che è mia madre e che ha un problema di disturbo dissociativo dell'identità appunto. Il personaggio di Marshall? Certo, il personaggio di Marshall. Ma c'è un attore che ancora ha sogni di poter doppiare, che ti piacerebbe doppiare? Sì, diciamo che è un attore che in realtà ho già doppiato, però adesso ha debuttato con un film che ha scritto lui, che è Chris Colfer, ovvero Cart Hamel di Glee. Diciamo che è l'attore che vorrei insomma mantenere. Ma il rapporto è molto. Come ha influito il doppiaggio, diciamo, sui tuoi rapporti sociali crescendo? Diciamo che quando ero piccolo, all'elementario mi trovavo molto male perché molti dei miei compagni non capivano appunto questa cosa che io facevo, non capivano come funzionasse, non capivano come lo facessi. E diciamo che molto spesso sono stato un pochino, ecco, trattato male perché magari venivo un po' deriso, così, non so se era un po' di invidia, ma anche io all'epoca comunque non sapevo precisamente se io avessi continuato oppure mi sarei fermato, ecco. Ti trovi meglio a doppiare da solo, in sala o con altri colleghi? Diciamo che quando sto da solo ho il leggio tutto per me, quindi posso muovermi tranquillamente e diciamo che lo preferisco, anche se molto spesso stare da soli al doppiaggio vuol dire che stai facendo una colonna separata, quindi colonna separata uguale tante righe oppure uguale anche un po' più di rompimento di scatole, ecco, magari ti riprendono solo a te, ecco, quello è il fatto. Però mi diverto anche a stare con gli altri colleghi perché molte volte si ride, si dicono cavolate. Certo, si condivide assieme. Ovvio, sì, sì. Ti trovi meglio a doppiare film o serie tv? Diciamo i film di circuito erano il mio lavoro principale fino all'età di 14 anni, mentre adesso, ecco, mi capitano alcuni personaggetti, così. Certo, fare un film è un'altra cosa rispetto a una serie, perché magari, soprattutto se sei un protagonista. Però le serie tv sono divertenti perché comunque vedi come si sviluppa il tuo personaggio, il carattere del personaggio. Ad esempio Glee, come lo stiamo doppiando, la cura che c'è adesso nel doppiaggio rispetto alla prima serie è veramente abissale. Cioè, c'è una differenza veramente grande. E comunque con le serie tv anche, diciamo che non è una preferenza. Preferisco forse, vabbè, le serie tv sono quelle magari che danno più frutti, ecco, quello è poco ma sicuro. La serie, quello che ti dà è appunto il vedere il tuo personaggio che comunque cambia nell'arco della serie, cioè col susseguirsi della serie. Quindi anche quella è una cosa molto bella, insomma. Forse le serie le preferisco, sì, dai. Ma come mai, diciamo, a volte le persone, il pubblico si aspetta che la voce di un certo attore, no, abituata a vedere quel binomio voce-volto rimanga, e invece a volte cambia, insomma. Da che dipende? Purtroppo è una cosa che anche a noi, soprattutto a me, è abbastanza ignota, nel senso succede a volte che tu ridoppi lo stesso attore. A me è successo con Freddie Eichmour, con Josh Hutcherson, però anche, cioè, in tutti e due i casi ci sono stati altri film successivi che comunque sono stati doppiati da altri doppiatori, insomma. Certo, io credo che molto, cioè, a meno che non ci sia un vero motivo di cambiare attore, io credo sia meglio mantenere la voce-volto. Però molte volte dipende, appunto, dalle società che se ne occupano. Se quella società dice, no, io voglio distribuire Tizio Caio, io voglio questo e basta. È successo così varie volte, come nelle Grana di Narnia con me, che ho doppiato soltanto il primo, insomma. Ti riascolti mai al cinema o in tv? Al cinema è stato abbastanza raro che mi fossi riascoltato. Magari è successo che ho comprato il DVD successivamente. Mentre in tv mi capita spesso, perché quando, appunto, all'epoca di quando c'era Open Fate, che facevo con la CVD, oppure i Finnerty, che era per Nickelodeon, o i Fratelli Garcia, mi ricordo addirittura che ho detto, mamma, o metti Sky, o metti Sky, perché mi voglio risentire. E infatti così è stato. E Glee soprattutto, vabbè, mi riascolto. Basta, basta nominare Glee, vabbè. Hai altre ispirazioni attoriali, oltre al doppiaggio? Beh, a me piacerebbe molto anche fare l'attore, sia di teatro che di cinema, soltanto che, insomma, ho capito che qui in Italia non è una cosa molto facile, ecco. Quindi, non so, potrei fare un corso, un corso, oppure è, però comunque sia all'estero, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Se no, non mi interessa anche abbastanza il campo della medicina, però credo... Quindi tutt'altro genere. Sì, però no, quello che aspiro maggiormente è il doppiaggio, assolutamente. Ma i film che doppiate vi piacciono sempre, o insomma, al di là di quello che vi presentano, accettate un lavoro, insomma, o l'altro? Beh, diciamo che, ecco, quando uno ha tanto lavoro, capita anche che una persona abbia tantissimo lavoro e preferisca magari fare cose un po' più importanti e fare una cernita di quello, insomma, da doppiare, ecco. Però molto spesso tu sei chiamato e ovviamente non sai quello che vai a fare, soprattutto se è il primo turno di una serie, quindi non sai qual è il tuo personaggio, non sai... Però, diciamo che tu arrivi là e cerchi di adattarti, insomma, al tuo personaggio. Ovviamente non sempre ti piace il tuo personaggio. Io, appunto, prima ho detto che il mio preferito è stato appunto Marshall, perché mi sono rispecchiato molto in lui, ecco. E è capitato anche che facessi i bulli, che io proprio bullo non sono, quindi magari mi è risultato più difficile farlo, anche se però alla fine ci sono riuscito. Ovviamente no, non sempre ti piacciono i film che doppi. Per chiudere questa intervista, diciamo su una nota un po' più sentimentale, magari, c'è qualcuno che è preso a un modello, insomma, nel modo di doppiaggio, che amiri in modo particolare, che può essere per te un riferimento? Diciamo, non c'è una persona vera e propria. Ecco, magari la mia voce della mia generazione preferita è assolutamente Fabrizio De Flavis, quello non lo metto in dubbio. Dopodiché, ecco, tutti gli altri che sono cresciuti con me, che sono Flavio Aquilone, Gabriele Patriarca, Erika Necci, Flavia Rosa, che adesso non la vedo molto in giro, però ecco, da piccoli stavamo sempre insieme. Ma io mi riferisco magari a qualcuno più adulto, insomma, che possa essere più un maestro, no? Oh, oddio, ma, ahimè, che non c'è più, e Cesare Barbetti, che mi ha dato veramente tanti, tanti consigli. Va bene, allora, Jacopo, grazie allora per il tempo che ci hai dedicato e per questa intervista. Nessun problema, anzi, sono io che ringrazio te e Davide, perché è stato veramente un onore conoscerti, come ho già detto anche a Flavio. Allora, alla prossima occasione. Ovvio, ci sono.